Anticipazioni Endless Love Emir continua a far crescere le speranze di Zainep, chiamandola per invitarla a cena e promettendole una serata fantastica. Le assicura che manderà un autista a prenderla e a riportarla a casa subito dopo la cena. Zainep teme di essere scoperta, quindi rifiuta di aspettare l'autista e decide di andare da sola all'appuntamento. Nel frattempo, Nian esce di casa e, mentre guida, nota che male Asu uscire dalla casa di lui. Lo shock la distrae a tal punto da farla urtare contro un cassonetto della spazzatura. Kemal e Asu si accorgono dell'incidente e lui corre subito a verificare se Nian stia bene. Lei, troppo gelosa e arrabbiata, lo respinge, dicendogli di andarsene. Asu approfitta della situazione per insinuare che ha trascorso una notte meravigliosa con Kemal e che loro due sono più vicini che mai. Nian, ferita dalla gelosia e dalla delusione, si allontana in fretta. Nel frattempo, lei la aiuta Kemal a indagare sul segreto di Ozan, sfruttando alcune delle sue conoscenze. Inizia a cercare le proprietà immobiliari di Emir per scoprire l'indirizzo di una casa misteriosa. Emir continua a tramare contro i suoi rivali. Mentre organizza la cena con Zainab, chiede al direttore dell'hotel di far sapere alla stampa che lui sarà lì quella sera, con una donna che non è sua moglie. Il piano è seminare discordia e creare scandalo. Zainab si dirige verso il luogo dell'appuntamento con Emir, ma Salì la ferma, dicendole che devono parlare. Ha notato il suo comportamento strano durante la proposta di matrimonio e vuole capire cosa sta succedendo. Zainab e Salì si dirigono in un bar per parlare. Zainab cerca di essere il più sincera possibile, spiegando che non intendeva sposarsi così presto. È delusa perché Salì non ha prestato attenzione ai suoi desideri, organizzando tutto con Kemal senza consultarla. Nel frattempo, Tariq si dirige all'appuntamento al negozio, ma viene fermato da un autista che dice di essere stato mandato da Emir. Tariq accetta il passaggio. Durante il tragitto, l'autista riceve una chiamata da un uomo che sta seguendo Honder, informandolo che Honder è appena uscito da un ristorante. L'autista accelera improvvisamente e investe Honder, lasciandolo gravemente ferito. Tariq, scioccato, scende subito dall'auto per aiutare Honder, mentre l'autista scappa via. Questo manda all'aria il piano di Emir, che prevedeva di far sembrare Tariq complice di un tentato omicidio e omissione di soccorso. Dopo aver terminato la conversazione con Salì, Zainab cerca un taxi per raggiungere Emir, ma Salì insiste per accompagnarla a casa. Zainab accetta, inviando un messaggio a Emir per informarlo che non potrà raggiungerlo. Emir, già al luogo dell'appuntamento, riceve il messaggio e la chiama subito. Zainab, però, non può parlare a causa della presenza di Salì, e questo irrita Emir, che le chiude il telefono in faccia, deluso perché il suo piano è andato a monte. Nel frattempo, Nian arriva alla casa di campagna di Emir e aspetta suo padre. Ma lui non solo è in ritardo, non risponde nemmeno al telefono. Tariq, sconvolto dall'incidente, rimane al fianco di Honder e sale con lui sull'ambulanza. Tufan informa Emir che il piano è fallito. Tariq non è caduto nella trappola, fermandosi per soccorrere Honder. Emir è furioso. Tutto il suo piano è andato in fumo. Nian continua a chiamare suo padre, ma non ottiene risposta. Decide allora di entrare da sola nella casa di campagna di Emir. Mentre esplora l'interno, riaffiorano i dolorosi ricordi di quella tragica notte. Camminando per la casa, Nian nota delle telecamere di videosorveglianza interne ancora funzionanti, nonostante siano passati cinque anni. Si dirige verso una stanza di controllo, trovando i monitor della videosorveglianza ancora attivi. Si chiede come sia possibile che le telecamere e i sistemi di sicurezza siano ancora in funzione. Mentre cerca di capire il motivo, sente qualcuno entrare in casa. Pensa che sia suo padre, ma scopre che è Kemal. Lui le chiede subito cosa stia facendo lì. Kemal ha scoperto questa casa grazie all'aiuto di Leila, venendo qui per svelare il segreto che Nian gli nascondeva. Ancora una volta, Kemal chiede a Nian cosa sia successo in quella casa. Ma lei non ha intenzione di confessare. Kemal, stanco di sentirsi ingannato, crede che Nian stia solo giocando con i suoi sentimenti, fingendo interesse per lui. Ogni volta che lei gli dimostra un po' di affetto, lui ci casca e si tormenta perché sa che non possono stare insieme. Nian è sul punto di rivelare la verità, ma quando ripensa a quella notte, e alla gravità della situazione, decide di mentire ancora, dicendo che suo fratello Ozan aveva avuto una crisi quella notte. Kemal non può credere che questa sia la verità, poiché se fosse successo solo questo, non ci sarebbe motivo per così tanto segreto. Prova a uscire dalla conversazione accusandola di prenderlo in giro, chiedendole cosa ci faccia lui lì, passando le notti con Asu, e poi interessandosi alla vita di lei. Nian taglia corto, affermando di essere andata in quella casa insieme a suo padre, solo per trascorrere qualche giorno lontano da Istanbul. Nel frattempo, sull'ambulanza, Tariq scopre dai documenti di Onder la sua vera identità. È il padre di Nian e il suocero di Emir. Tariq comincia a sospettare qualcosa, ma per ora si concentra solo sul fatto che Onder venga salvato. Emir, furioso per il fallimento del suo piano, dà la colpa a Tufan. Egli ordina di fare in modo che Tariq non parli alla polizia, né coinvolga Emir nella faccenda. La pressione su Tariq cresce, e Emir è pronto a fare qualsiasi cosa per tenere al sicuro i suoi segreti. Tufan riesce a contattare Tariq e lo avverte di non parlare con la polizia. Emir si precipita all'ospedale per manipolare Tariq, e assicurarsi che non lo metta nei guai. Appena arrivato, Emir va direttamente da Tariq, e finge di essere scioccato dall'accaduto, definendolo una tragica coincidenza. Un suo dipendente, che investe Onder, e poi scappa. Tariq lo rassicura, dicendo che non ha parlato con nessuno, e che è l'unico testimone dell'incidente. Emir Gili suggerisce di dire alla polizia ciò che è necessario per proteggerlo. Tariq concorda e racconta agli agenti di aver assistito all'incidente mentre camminava per strada, ma di non essere riuscito a vedere l'autista o la targa dell'auto. Nel frattempo, la passeggiata tra Kemal e Nihan prende una piega romantica. Kemal ammette che non ha mai smesso di pensare a lei, e che potrebbe trovarla anche a occhi chiusi, perché tutte le strade del destino portano a lei. Ma il momento romantico è interrotto da una telefonata di Emir, che informa Nihan dell'incidente di Onder. Sconvolta, Nihan corre in ospedale insieme a Kemal. All'ospedale arrivano anche Ozan e Vildan, che riconoscono Tariq in preda all'ansia per Onder. Chiedono ai medici informazioni sulla sua salute, e scoprono che è in sala operatoria. Nihan e Kemal arrivano poco dopo, ma Kemal non entra in ospedale, preferendo rimanere nel parcheggio, dove incontra suo fratello Tariq insieme a Tufan. Kemal si chiede perché suo fratello sia all'ospedale, e Tufan interviene rapidamente per coprire Tariq, dando spiegazioni poco convincenti per distogliere l'attenzione di Kemal. Tariq si trovava semplicemente vicino al luogo dell'incidente, il che ha permesso ai soccorsi di arrivare rapidamente per aiutare Onder. Questa versione è confermata anche da Tariq, sebbene Kemal tema che suo fratello non gli stia dicendo tutta la verità. Alla fine, Onder esce dal pericolo e tutti possono fargli visita. Sebbene ancora sotto l'effetto dell'anestesia, riesce a dire che l'incidente non è stato casuale, ma un vero e proprio attacco mirato. Questa dichiarazione lascia tutti sconvolti, ma devono uscire dalla stanza per ordine del medico. Nella sala d'aspetto, iniziano a riflettere sulle parole di Onder e valutano chi potrebbe aver cercato di ucciderlo. Emir cerca di minimizzare, attribuendo le affermazioni di Onder all'anestesia. Ma sia Nihank e Kemal hanno i loro dubbi. La sera, Kemal torna alla casa in campagna di Emir e nota che c'è qualcuno nella stanza di controllo della videosorveglianza. Quando cerca di scoprire chi sia, viene colpito alla testa. Kemal insegue l'uomo misterioso, ma non riesce a catturarlo. Però riesce a prendere il numero di targa dell'auto su cui è fuggito. Chiama subito il suo contatto per riferire il numero di targa, sperando che possano rintracciare l'uomo che minaccia Emir. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il continuo. E presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!